benvenuti nel mondo di idee per viaggiare tour operator dal 1995 sono maria solitro product manager oceania ed oggi vi porterò alla scoperta della mia australia l'australia è semplicemente ineguagliabile non è solo un viaggio alla scoperta di un continente ma è anche un viaggio attraverso il tempo dalle antiche testimonianze aborigine alle sue moderne metropoli una perfetta miscela tra natura ed innovazione il modo migliore per visitarla è viaggiare on the road per ammirare le straordinarie bellezze naturali che sfileranno davanti ai vostri occhi immergetevi poi nei racconti della più antica cultura vivente del mondo lasciatevi ispirare dalle storie degli aborigeni per scoprire i mille volti di questo straordinario paese ritornerete con un nuovo spirito perché non c'è niente come l'australia ho creato per voi una selezione delle nostre migliori proposte tra viaggi di nozze in famiglia di coppia o di puro relax e di emozionanti avventure scegli quella giusta per te sul sito nella sezione delle offerte idee per viaggiare da 25 anni da forma ai tuoi sogni fidati della palma grazie a tutti Grazie a tutti.